Un bimbo di 5 anni è stato trasportato in condizioni gravissime al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere precipitato ieri dal terzo piano dell'abitazione dove vive con la famiglia a Capena, centro in provincia di Roma. Il piccolo di nazionalità del Bangladesh, a secondo quanto ricostruito dai carabinieri, stava giocando con il fratellino nella sua camera quando, dopo avere perso l'equilibrio, è caduto dalla finestra ad un'altezza di 8 metri. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ipotesi, il bambino, mentre si rincorreva con il fratellino per le stanze della casa, si sarebbe arrampicato sopra un termosifone posizionato sotto la finestra. Poi avrebbe perso l'equilibrio, volando giù dal terzo piano. È stato il piccolo di tre anni avvertire la madre che si trovava in un'altra stanza. La donna ha poi immediatamente allertato le forze dell'ordine. Il bambino è stato trasferito negli ambulanza in ospedale. Ora si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Gemelli, diretto dal professor Giorgio Conti. A causa della caduta ha riportato un gravissimo politrauma con lesioni cerebrali, oltre ad altre fratture. Al momento non ci sono indicazioni per interventi chirurgici, lui è in sedazione farmacologica e ventilazione meccanica.